Uno spettacolo, una ballata Alessio dedicata a Cesare Pavese, ma perché Cesare Pavese? La scelta di questo grande intellettuale, ma personaggio come avete ricordato anche nell'incontro con il pubblico e la stampa, spesso non ricordato come dovrebbe. Non lo so come mai non viene ricordato come dovrebbe, perché se leggi, non so, è state perduta i dialoghi con Leo Co. Tra l'altro io sono entrato in Accademia d'Arte Dramatica grazie ai dialoghi di Leo Co perché interpretai Achille e un mio compagno Patrocco, quindi io ci sono molto legato a Pavese. Mi hai dato il là per poter entrare e poter fare questo mestiere, ma questa è una coincidenza. Però, che ne so, se avessi magari scelto un altro autore non sarei entrato, che ne so. Perché il gesto del suicidio, ancora adesso, ma soprattutto nel 1950, dava molto fastidio. Sia la Chiesa, che è un atto politico molto forte, togliersi la vita era una cosa che non si doveva, non si poteva fare. Credo anche che non venga sufficientemente citato dai programmi scolastici, quindi i ragazzi non lo conoscono, non lo sanno, saltano quella fase lì del liceo, eccetera. E poi dopo uno fa lettere e si interessa per i fatti propri, allora va su Pavese e cerca anche altri intellettuali e letterati. Ma altrimenti va sui classici che li predispongono e che devono sapere perché bastano quello. Siamo molto contenti di ospitare Alessio Boni, ricordo che già a maggio era stato presente qui al Teatro Signorelli, con un lavoro teatrale inedito che ha voluto riproporre, ma è come se fosse una prima assoluta in un certo senso, anche perché appunto questo spettacolo è in continuo divenire e sono convinto che sarà una bellissima pièce teatrale.